ciao a tutti benvenuti in mio video che sono random 1987 motori e sto registrando la magnifica intro del mio magnifico video che ho fatto a piacenza in un posto veramente meraviglioso super meraviglioso con delle persone veramente gentili che aiutano le persone in difficoltà soprattutto fanno creare delle oggetti meravigliosi soprattutto che ci ha fatto creare un mulino al vento una libellula che si tiene sul dito poi una grandissima bellissima sagoma di toby e vi lascio dove abbiamo creato magnifiche cose ciao grazie a tutti 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 con tutto il mio cuore, soprattutto dovete iscrivervi al mio magnifico canale, mettete tantissimi like, tantissimi like, di mettere ma tanti like, soprattutto tantissimi like e così almeno supero almeno 200 iscritti diciamolo e spero di vederci presto nei prossimi video che pubblicherò più avanti, pubblicherò dei magnifici video e soprattutto grandissime grandissime live con un grande ospite, anzi con tanti e grandissimi ospiti, spero di vederci presto, ciao amici miei, ciao